ciao caponici bentornati sul canale allora siamo qui per illustrarvi un attimo di aggiornamento del locale tecnico finalmente siamo riusciti a chiudere e iniziare a posizionare le unità di impianto e oggi vi facciamo un breve riassunto del nostro sistema di approvvigionamento idrico viene spillato da questa tubazione l'acqua potabile che verrà prefiltrata filtrazione a rete ea carbone e questo è il nostro collettore da qui abbiamo tre spillaggi il primo che va all'interno del serbatoio diretto che ha una prevalenza diciamo per riempimento ma soprattutto nella fase invernale per evitare il congelamento delle tubazioni perché l'altra mandata immette l'acqua direttamente all'interno di due serbatoi da 4000 litri che usiamo come stoccaggio di sicurezza nella fase estiva questo qui invece di servizio manuale lavaggio quello che è necessario in base alle operazioni che uno deve compiere per questa linea invece è la mandata verso la filtrazione ad osmosi dove noi qui abbiamo un flussimetro e un indicatore di pressione il flussimetro ci può ci indica temperatura e flusso d'ingresso all'interno dell'osmosi l'osmosi a tre membrane poste in serie proprio per avere ottimizzato il rapporto tra permeato e concentrato nella mandata dell'osmosi quindi del permeato abbiamo inserito anche una lampada ovvi per evitare diciamo la formazione di colonia batterica all'interno delle membrane perché se non viene utilizzata costantemente la membrana ovviamente prolifera una colonia batterica nociva per proprio il nostro impianto essendo la cosmotica di facile contaminazione proprio perché è quasi distillata abbiamo voluto inserire anche questa lampada ovvi nella mandata ovviamente con la predisposizione del suo bypass per operazioni manuale interventi nella mandata in questa fase che stiamo ancora terminando sarà presente una misurazione delle c una misurazione del ph un trasmettitore di pressione e anche qui il flussimetro per definire e indicare la portata che gli passa all'interno perché è così avendo ingresso e uscita determiniamo l'effettiva efficienza delle membrane quando noi dobbiamo andare a sostituire in questa mandata qui abbiamo una separazione delle due condotte perché questa qui è la condotta diciamo buona è quella che noi usiamo dell'osmosi questa parte qui invece quella di scarto collegata direttamente all'uscita del concentrato perché in base alle analisi e alle misurazioni che noi facciamo nella prima fase che vi faremo vedere nei prossimi video l'acqua viene scartata direttamente se le analisi danno feedback positivo idonee per il nostro impianto allora si aprirà questa altra elettrovalvola che spillerà manderà l'acqua direttamente in questo collettore dell'osmosi dove anche qui abbiamo una mandata di servizio per condizioni operative nel senso faccio pulire le provette per fare le analisi per quello che è necessario l'osmosi oppure abbiamo due mandate questo che va direttamente all'interno del serbatoio e questo invece che va verso l'esterno nei serbatoi perché anche all'esterno della nostra serra stoccheremo acqua osmotica concentrato e acqua potabile e facciamo in modo diciamo che di recuperare tutta l'acqua possibile proprio per questo mancano le ultime due tubazioni da spiegare una è la mandata dell'acqua piovana dove noi abbiamo fatto un impianto all'esterno della nostra serra per la raccolta dell'acqua piovana la quale viene filtrata purificata sterilizzata e poi facciamo fare un ulteriore filtrazioni nell'osmosi proprio per evitare qualsiasi elemento chimico nocivo al nostro impianto dall'altro lato abbiamo la mandata del nostro serbatoio di raccolta fanghi proprio perché tutta l'acqua di processo se necessario o per emergenza noi la possiamo comunque filtrare sterilizzare e osmotizzare e di conseguenza recuperarla abbiamo creato un ciclo chiuso completo del nostro impianto tutto il sistema verrà ovviamente controllato attraverso una centralina quindi un cervello centrale abbiamo voluto inserire flussimetri elettrovalvole trasmettitore di pressione proprio perché perché grazie a queste unità strumentali noi potremo avere il controllo e monitoraggio di tutta l'acqua che verrà immessa trattata e stoccata proprio per determinare anche un quantitativo a livello di costi dovuto alle condizioni sia invernali che estive del nostro impianto per il modello di impianto che abbiamo fatto diciamo in caso di studio e di analisi che abbiamo voluto noi intraprendere visto che comunque è uno dei primi impianti di queste tipologie e non sappiamo neanche noi a livello teorico sì ma a livello pratico quali saranno le variabili in gioco in conseguenza spiego brevemente abbiamo inserito il flussimetro per la parte di mandata acqua potabile ai serbatoi esterni all'ingresso del nostro sistema ci sarà un rilevatore di flusso un contalitri diciamo proprio per determinare da quando abbiamo l'impianto ufficialmente quanto è il consumo annuale del nostro sistema queste elettrovalvole sono tutte normalmente chiuse di conseguenza in caso di emergenza di salto di corrente si bloccano istantaneamente non abbiamo delle fuori uscito delle perdite questa elettrovalvola apre la mandata diretta all'osmosi come funziona questa elettrovalvola quando dalla centralina gli verrà segnalata che cosa una variazione di ph una problematica all'interno del pianto o una necessità di stoccaggio nei serbatoi esterni le aprirà direttamente e attraverso il trasmettitore di pressione collegato direttamente alla centralina insieme al flussimetro attiverà in modo automatico l'osmosi quando si attiva l'osmosi in modo automatico queste due unità di impianto quindi lampada via osmosi si attivano istantaneamente per quanto riguarda invece questa parte qui diciamo viene gestita e controllata a sé sempre dall'unico cervello e ci permette come dicevo prima di determinare le differenze di portate quando le sonde daranno feedback positivo queste due elettrovalvole lavorano un'alternata all'altra normalmente aperta quando l'acqua non è di una buona qualità si chiude istantaneamente si apre quell'altra quando l'acqua è di una buona qualità queste altre due invece elettrovalvole le abbiamo inserite che funzioneranno insieme a quella in base ai livelli dei serbatoi esterni di stoccaggio quando il livello del serbatoio esterno arriva al punto minimo loro si attiveranno direttamente e la nostra centralina potrà controllare direttamente in modo automatico questa cosa qui ovviamente il sistema esterno funzionerà in base a che cosa in base al livello diretto dentro alla nostra vasca di raccolta e ora vi facciamo vedere un esempio di come funziona il nostro sistema collegato direttamente alla nostra vasca di raccolta che questa qui è la nostra stazione centrale tutti i serbatoi esterni di stoccaggio sono collegati tutti direttamente alla nostra vasca di raccolta insieme a tutte le linee del sistema di approvvigionamento idrico questo è un risultino del nostro impiantino e non vediamo l'ora di farvelo vedere attivo completo insieme alla centralina ciao caponici per curiosità e domande scrivete qui nei commenti ci vediamo per il prossimo video